Davvero bello sto cazzo di gioco, è davvero bello, madonna. Se vuoi riprendere un po' la mano, il gioco è difficile, è difficile, però... Ebbè, sì. Sofferenza e point consumati. Direi dolori. Dai, ce la facciamo, bravo. Andiamo a Treus. Vedo una bot. L'audio va bene, vero? Sì, penso che per me devo guardare prima, quindi... Però l'altra volta non dovrebbe esserci problemi. Ma stavo pigliando una roba! Oh mio Dio. Il problema è che questi stronzi li devo mirare per forza, mi sembra. Vaffanculo. Sennò mi ricordavo sti cosi volanti. Dov'è? Tu sei ok? Dov'è? È la stravista, baby. Mi sono rinchiato e potevo sparare con me. Con a Treus. Sì, mi ero dimenticato delle frecce Ti ho letto dopo Eh, I wish Non potrei un po' chiedere purtroppo Perché la bambina Non l'abbiamo neanche conosciuta All'inizio del gioco No, non mi ha fatto il parry L'ho fatto malissimo io sicuramente Proprio, ho sbagliato Cavolo, giocare questo è The Game of Thrones Nello back to back È strano Sono due approcci all'action molto diversi I see a boat Nightmare Nista A che spiegher I'm not you, let go Father, help me Help me He's got me, help Sorry, no Allora, a me ne ho perso uno video, dai, stavolta. Ah, m***a, l'ho fatto ora via. Questa caverna, sì, al momento non si può fare granché. Quale cosa si possono fare, altra no. Possiamo usarla come ponte, mi sembra, questo. Non saperebbe. Eh, bello mio. Non hai un padre molto normale. Ah, sta roba è tipo un altro potenziamento. Questo che si deve ottenere andando avanti, non so. C'è. Ci sono cose alla metroidvania! No, io possiamo citare metroidvania a profusione. Qualsiasi stronzata è metroidvania. Oppure questo è metroidvania. Ah, qua c'è la mecca a cassa. In cerrappi con metroidvania pixel art è simile, eh. Metroidvania, sì, pixel art, dipende. Eh, oggetto 1 fa ottenere un bonus di vita. Mi dispiacerebbe, onestamente, avere un bonus di vita con la vita che ho. Pixel art dipende più che altro perché, per quanto a me piace la pixel art, vari indie la utilizzano in maniera molto spropositata, giusto per. E' uno stile molto abusato. E' diventato uno stile molto abusato. Cioè, devi saperla anche usare. E' di là, ma là non ci posso andare. E' infatti tutto un giro particolare. E' molto semplice, sì. Però la pixel art deve essere... Deve essere appunto accompagnata da un buon art direction. Qualcosa che sia abbastanza riconoscibile. Altrimenti... Insomma, come qualsiasi grafica... Uno spicca, ecco. E' un po' come che ne so, il... S-Shading. Sì, ok, bello. Però se non c'è un art direction interessante... Non me ne frega niente che una roba assomiglia a un cartone animato. Eh sì, più o meno quello è il discorso che intendevo. Andiamoci, ne dai? Ah, sì. Faccio prima un indicatore, quindi andiamo in giro. Tanto qua ci ritorneremo che ci sono... Abbiamo visto cose che si sbloccano poi, quindi... Sì, c'è un'attività. Sì, c'è un'attività. Sì, c'è un'attività. Se non dà forza i punti... Dove rafforzare la cosa. Lago dei Nove. Quindi tu il lago dei Nove non l'hai visto. Sì, c'è un'attività. Sì, c'è un'attività. C'è un'attività che non c'è mai sentita? Oh. Sì, c'è un'attività che a Balder. Balder. E un'attività di Acer. Il lago di Odin e il frigo. Balder. Odin è il king. C'è un'attività. C'è un'attività. C'è un'attività. Ah, sì, sì. Ah, lìga. Vedo un'attività. C'è Chaz. Non puoi farlo. Leggi, boy. Il dice... Sacrificare i tuoi armati nel centro dell'acqua. Uppure ancora il crato del mondo. Che? Prendere le nostre ucchioni nell'acqua? Credo che non sarei un problema per te. Scusate. 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 Beh, oddio. Il leviatano mi sembra abbastanza... Un'arma particolare. Sarebbe un problema perderla. E qui. Ma, Kratos è sti cazzo. Tanto la richiama. Uh-uh, tanto la richiama. Ah, non è tornata. No, non l'ha richiamata. Non mi ricordavo sta cosa. No, non la richiama. A quanto certo. era adesso mi decura nel modo più naturale vabbè l'ha detto lui che non la poteva richiamare vabbè ho detto ora quella cosa non ho detto cosa sta palesemente rimanando palesemente mi ruttava non parlava ebbè si era abbastanza grande il serpente dai questo è il barbocchio ciao momo comunque vuole essere anche a te eh no il barbocchio ce lo dobbiamo sorbire anche nel seguito un'esagerazione forse si era pretty big si fanno la svena a sec tu l'avevi giocato è la seconda live questa non ti rispondo neanche si lo so che l'ha giocato comunque questa fa un po' da main hub diciamo così è tu russi around like that everywhere yes catch the pile of rocks there with that key of yggdrasil you can open a magic door to the branches of the world tree a shortcut tra le realms se comunque la seconda line ci siamo fermati alla fine della della strega diciamo così nella crocca ci ho messo un po' nella prima live perché a difficile il gioco a lizzo ti prende proprio a calci nel culo eh non è così tanto dipende eh talismani, pomi e incantesimi nei negozi può potenziare l'armatura così come il resto dell'equipaggiamento premio per sezione e maniazione armatura e ne accresci resta di l'ho già fatto dall'altro mi pare di aver già aumentato la cosa ci sono incantesimi qua adesso si aumenta la vita di 3 ricarica di 3 runico di 3 3 3 3 3 ah vediamo qua ok vediamo un poco vai vai col cinghiale tutto l'aiuto possibile ho bisogno sì lo sto giocando a difficile come ho giocato a difficile tutti quelli prima ma anche questo la prima volta però normalmente l'avevo giocato al normale viaggiare la tua arma con un pomo ciascun pomo aumenterà le statistiche e fornirà vantaggi unici in base alla tua azione in combattimento eccetera eccetera ok vediamo un po' probabilità elevata di attivare un vantaggio conferisce una benedizione alla ricarica di ogni lancio di precisione la verità elevata di attivare un vantaggio di conferisce una benedizione alla ricarica quando si esegue un fendente del boia 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 fondente per questo non capiamo quando la vita di credo scende a livelli critici si attiva una barriera invulnerabile per alcuni secondi ok conferisce un breve momento di forza quando la vita di credo scende a livelli critici no mi cago addosso quindi faccio questo oh bello soldi so quali adesso allora fatemi controllare le varie cose qui vabbè questo che ho messo adesso ah mi fa giusto rivedere quelli là che è esatto mi dice questi sei messo questo andavano bene tutti e due io dire la verità eh però forse sarei potuto più dire questo non lo so dire la verità teniamo questo un po' di controllare le abilità questo boia difendente qua c'è un po' di esperienza qui che posso spendere sembra di sé il pomo p segreto non mi ricordo a quello che riferisce bellissimo mi esce di nuovo connessione alla chat thanks twitch pure questa sera non leggo un cazzo no ok ora ti diamo un po' di vedere la chat mira e tieni premuto per caricare le vietano e causare un'esplosione all'impatto questo è buono eh ma solo me dipende dal provider mi sa mi ha detto pure ad esempio digi che usa team che ha avuto problemi ieri lo stesso tipo di problema ha avuto problemi pure coso pure pure arblo ha avuto problemi ok questo qua mi piace eh lo so però mi hanno detto altri che non potevano scrivere dipende dal provider mi sa comunque ora vi leggo però stava caricando la rotellina prima non vi leggevo c'è stato un momentino che non vi ho letto che palle però che si sblocca facendo un passo con la visuale praticamente devi guardare a destra cento e sinistra una certa sequenza una certa è una certa precisione ah vabbè non mi ricordo onestamente dove lo piglia l'ho giocato tanti anni fa quando mi sembra nel 2019 no 2018 no 2018 non credo 2019 l'ho giocato ma non mi ricordo tutte le cose come se ne ho le altre poi c'è il passaggio mistico qui la cazzo ammazza non lo dobbiamo fare adesso non abbiamo niente però così funziona ok mi ricordo quanti trofei ho sblocato sai devo controllare questa cosa si gira però andiamo prima dall'altra parte qua è tomanzato da treus però si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta kraus attaccando i nemici quando ne ha l'occasione mamma mia c'è incredibile impressionante che se insomma si esplodano ops andiamo alla mountain ah è vero c'è una delle cose del codec qua si può scendere diciamo che onestamente ho un po' di paura da quello che mi ricordo ho un po' di paura di esplorare perché normale c'erano tanti nemici fortissimi in giro e quindi magari mi shotta oh my god ho su youtube sta cosa sopra da quell'idea si dovrebbe capire quel gioco nel gioco però boh essendo roba viola che vuoi sbloccare in daily game è sicuramente utile ti interessa ti posso cercare un link vedi tu se farlo o meno no vabbè procediamo normalmente diciamo che se proprio ne sento bisogno cioè che cosa ti donava per curiosità per poi dirà non si può andare dirà c'è roba benefica no no forse si poteva andare aspetta devo fare un'altra cosa forse bastava lanciare di lascia devo vedere lo morde o lo morderà spoiler di Ragnarok lo morde o non lo morde il gigante lupo scolla in seguito il sole ati la luna si l'esplorazione è abbastanza rivitata perché molte aree avevano nemici cortissimi ti dobbiamo sì sì infatti mi ricordo che mi shottavano certi nemici erano allucinanti era difficile proprio io mi cago un po' torno mi sembra vero che l'abbiamo l'abbiamo incontrato preghiera di Odino i giganti let's go ok credo che bisognava fare così esatto così lo bloccava il veleno perfetto possiamo andare avanti oh need more time ah che cazzo dai eh ma qua mi sa che non si può fare adesso a prescindere quindi allora di là si procede mi sembra no forse si procede davanti o si tornava indietro ma mi sa che si tornava indietro lì andiamo lì qua oh quale erano queste cose? si tornava davanti eh tua madre non c'è quindi adesso lui sarà il tuo mentor bravo padre Kratos bravo padre ma aspetta c'è la cosa là forse posso farne nel secondo momento qui non posso farlo adesso sicuramente dai andiamo dai figlio molto meno eh eh beh piccolino dai deve crescere un po' rompi i coglioni certe volte però dai poteva andare peggio di base ho quei cristalli ok 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 oh no No. Ma chi preferite? L'altro una netto, sì, esatto. Sindri o Brock? Ok, io farò miglioramenti per l'Axe. Ma... nessuno mi ha chiesto di farlo. Beh, è vero, ma... ma sapendo che la tua madre... si sa molto più di Fabbro, Brock. O almeno di stereotipo di Fabbro. Mi sembra sempre di uscire due amma. Il blu è il tuo bruno. Il blu è il tuo bruno. Il blu è il tuo bruno. Sì. Il blu è il tuo bruno. Non mi chiederebbe più superiori. Non mi chiederebbe. Spero a Freya. Non non faccia il suo lavoro. E' solo approfondi. Sì, ma... ma puoi... puoi... puoi mettere qua lì, lì? No. Filippo. Sì, ma penso. Addirittura si schifa pure di prendere l'ascia, perché è sporca. Eh, giuricare il vestito, sì, è più alto. Guarda, è molto... Cioè, mi sa di uno che... si dava con la mucchina cinque volte al giorno, almeno. Cioè, cosa stai lavorando? Oh, quello. Lo chiamavo il Sky Mover. Allora su quella mucina, c'è una trova di tesoro, di risorse rari. Una volta che ho minato, ho bisogno di prenderlo tutto. E tu sai come farlo? Non anche un pochino. Cioè, c'è una trova di sangue, il fiore dice... Sì, infatti. Ora, nei negozi, disponibile pietre della resurrezione. Acquista pietre della resurrezione per far sì che Atreus rianimi Kratos in caso di morte. Minchia, potrei abusarne però, dovrei spendere tanto. Una pietre magica che suscita gratis con una piccola quantità di vita. Per un minuto, quando Atreus muore, Atreus rianimerà, si può portare solo una pietre della resurrezione alla volta. E' così che il re apre un mudo. Prima era bastava pulirla, quindi a quanto pare. E ci sono diversi tipi di pietre della resurrezione, ma dovrò portarne solamente una alla volta per acquistare una pietre della resurrezione di tipo diverso dei primi a rimuovere quelle che ho giocato usando nel combattimento o vendendola in negozio. La vedrei lì? Ok. Ah, posso potenziarlo? Posso potenziare pure questa. Posso potenziare perché non ho soldi. Ti prego, togmi l'altro, grazie, che mi dà fastidio assurdo. Mmm... Eh sì, deve potenziare. Allora sto spiegando soldi, però insomma, l'edificio è difficile e io mi cago addosso. C'era qualcosa di più? C'era davvero la domanda per mia madre? Oh, io lo riconoscerebbe in ogni parte. Per me! È uno dei nostri migliori, infiuscita con l'escrizione di 20 Trolli Froschi, giudizio. Ma perché lei? Cosa c'è? 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 Ho capito tutto. Ho capito tutto. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo so. È imbarazzante per certi versi. Però mi sta simpatico. Dio e Brocco sono gli antipodi proprio. Cosa c'è? Si diceva che ci sia aiutato a proteggermi, era una lievita? Oh, no, è una protezione, Stave, ok, ma non puoi rendere il pigmento in una texture pittabile senza la metà con l'urino di boore, e questo è davvero meglio che la morte? Beh, è il tuo cuore! Molto schizionoso, molto schizionoso. Guarda quanti cazzo sono! Guarda quanti cazzo sono! Guarda quanti cazzo sono! Guarda quanti cazzo sono! che cosa sei ben cazzato bravo mamma mia tu vuoi che sia un po' di piscio tutto fa brodo, comincia il famoso tetto, esatto, pure il piscio fa brodo ma da dove mi, ah ma c'è ancora, dove ho manco visto allora qui abbiamo questo coso devo semplicemente girarlo nei punti giusti allora non l'abbiamo girato c'era quello prima da questa parte mi sembra eccolo qua aspetta qual era che serve una B al contrario è una specie di P una specie di P fatta è una specie di P una specie di P una specie di P Questa è la sua, al contrario. Andiamo. Taglio. Ogni potenziamento mi serve. Ok, questo è aumentare la furia. Dovremmo salire, però di sotto non so c'era. Per esplorare voglio e devo esplorare. Non ci può arrivare. Ok. Niente da fare qui. Andiamo dritto per dritto alla montagna, bello mio. Sì, io non tengo un sacco di roba. Ma poi siamo all'inizio, all'inizio. Da fare qui adesso? Ho visto delle cose, però mi sa che non le posso fare adesso. No, c'era tipo quella specie di rampicante blu. E l'altro che era rosso. Non posso dire. Siamo più vicino alla montagna? Siamo. Che cavolo è andato? Eh no, ci ho provato. L'ho lanciato, ma non ha funzionato. Quindi mi pare che mi serve un potenziamento dopo. Da destra sì, ma io voglio andare qua. Tipo per i rampicanti rossi. Va via sta roba. No, 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 miro migliore, no, no, no. Visualizzare il menu, fammi vedere com'è. Un po' più di difesa e ricarica, no. Eh, boh, boh, devo vedere. Dici, forza. Ah, stai, tico. Tanto ci dobbiamo tornare comunque, quindi. Dopo ricontrolliamo, allora. Ma ci sono un sacco di cose che non puoi fare. Poi si potranno fare. No, 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 no. Ma st... Merda. Quanto mi danno fastidio ste streghe di merda. Dai, vieni qua, su. Dove sta? Ancora là fuori, eh. Speramente. Sta nel veleno, però. Mi rapprovi di lanciare al massimo l'ascio. Se non uso l'ascio perché, come puoi vedere, tutta la zona è piena di veleno. Non mi posso muovere, se no. Madonna, santa. Stronza. Pegliela, pegliela, pegliela! Pegliela! Bravo, bravo, Atreus. Come va col veleno, Atreus? Atreus è immuno al veleno? In realtà prima stava soffocando, adesso però si era tipo mezzo buggato. Ok, qui niente. Tutta l'ora. No, non eravamo baggato. Ok, qui non si può. Qui è roba da fare successivamente. Quella abbiamo già visto, una porta del genere. Ah, vabbè, essendo un Dio, vabbè, ok, figlio di un Dio, ok, però. Cosa era il tuo playthrough? Sei già buggata un'altra volta, mi sembra, la parte di playthrough. Nella scorsa live mi pare che era successo qualche volta. Ah, comunque Aztec, Osha è in Blyde praticamente, guarda. Quindi... Parliamo delle cose... Lo dico perché magari... Non lo so. Siccome l'hai giocato, però non lo sai. Non mi riferisco a quello di Printo in generale. Vabbè, sì, no, no, ma non mi riferivo a quello, infatti. Però ho detto... Siccome non lo sai che l'hai in blind, ti avviso per cose future, non parlo. Credo scopa. Ha scopato tanto, eh. Cioè, considerando quanto ha scopato con... Con le prostitutes... Magari ha tanti di quei figli che non sappiamo. Se si dico in generale. Magari ha tanti di quei figli che non sappiamo. Magari ha tanti di che... 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 bello mi sono bruciato allora Kratos mi sembra che sia un semi dio no? intendo della questione mezzo nato da un dio e mezzo nato da una persona normale i semi runici su questo esempio no 50% no no me lo sono beccato sì sì la madre che l'abbiamo vista in in come si chiama in in Ghost Sparta mi sa che non posso fare un cazzo qui non adesso perlomeno ma che si facevano così no mi ammazzò solo ragazzi ah aspetta adesso non gioco in male io ma si mi piace vivere nel pericolo ragazzi l'euro di God of War mi pare di capire che abbiano fatto un po' come cazzo pareva a loro prima era dio poi è diventato ah beh si è diventato comunque un dio effettivamente è diventato il dio della guerra quindi in teoria è un dio con la cosa del vaso di Pandora poi carica del rosso bianco un rapido scatto offensivo seguito da Kratos seguito da Kratos seguito da Kratos durante lo scatto no però riesco il tocco di L sono un coglione non mi devo distrarre alzati alzati Kratos non morire come un coglione per colpa mia ma guarda in realtà per quanto sia interessante per vari versi comunque la storia di God of War non è che sia scritta proprio benissimo infatti secondo me c'erano delle cose che hanno voluto intare che però non so se cioè non intare che sembra che vogliono dare un indizio per qualcosa ma secondo me gli è venuto così e basta perché sono un deficiente oh madonna ma Kratos ma Kratos non capisce mi fa incazzare Kratos mi fa incazzare Kratos ottimo momento prima quello di perdere quello prima di perdere il revive che cazzo che cazzo mi fa incazzare Kratos mi fa incazzare Kratos mi fa incazzare Kratos se io proprio ok ok siamo arrivati alla parte in cui bisogna giocare e non mi ricordavo che spuntasse sto sto arcone oh madonna no Ma che cazzo Sì devo prima ammazzare i minion Devo sfruttare le esplosioni Era nominato, drop Dobbiamo la run, basta E che cazzo Ah sta la vista baby Era quello che volevo fare io e l'hai fatto tu stronzo Maledetto Ok concentrazione Se comunque la furia la utilizzerò subito sui minion Così me li levo di palle e posso combattere normalmente contro lui Sto spregato adoro Buona sera trago Sì 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 Sì, Sì, Sì! Sì! Sì, 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 Spacco tutto! Sì, Sì, Sì! 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 In Darksiders ho giocato solo il primo Darksiders. Non ho giocato gli altri ancora. Mi avrebbe piaciuto il primo. Sì! 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 Mi depone nel modo più naturale Plimplim Plimplim, no? La storia black breath è una corruzione di magica Anche io non ho scelto Solo il giro pure di Ulfheim è abbastanza forte per riuscire Ma il mondo è lungo Cosa significa questo obiettivo a te? È tutto Seguimi Perché aiutarti? Hai fatto il vaccino, ora è il chip che li traccia, esatto, è il 5G È tutto Lui è sempre molto Molto, diciamo Sulle sue Diciamo che È sempre stato molto Cioè, dopo quello che ha passato lo posso anche capire Che non si fidi degli altri Eh beh, effettivamente Cammino suonare le scalze non deve fare bene Questa è una città Lui era riuscita quando siamo arrivati qui Non c'era nessuno quando ho passato Potremmo si è finito Dwarfi sono davvero risorse E irritato come avranno bloccato male E irritato come avranno bloccato male Eh eh, questo anche Devo dare un turno Devo dare un turno Torniamo 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 Eh, è bello lungo Eh, è bello lungo Beh sì, ci credo È uscito oggi No, è uscito ieri Torniamo 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 Eh, abbiamo già detto Un'esercizio Sono bene Con i linguaggi Anche i più non ho mai 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 Ma quando si parla Non so non so Non so Nel momento Non so Si parla Un'esercizio Oh Non è Non so Non so Sì, guarda il vostro step, solo qui. Sei sicuro? Vi è venuto qui prima e non c'è un po' di tornare. Vedi? È così? Rutta, rutta. Vai, guardami qualcosa. Stai guardando? Liosta! Che? È solido! L'architettura elvenica. La mia bostrino è soccata in la luce di Alfheim. Ora può riappare la magia degli elvi. Prendi, non si può riappare, va? Non per quanto la luce è libera. Questa. Voglio una. Quelle rutta! È Vannir. Vannirheim? Tu lo sai? Solo storie. La madre non diceva molto sui di Vannir, solo che sono sempre attraverso con l'Asia. Comparato ad Odin e Thor. Sei il buon ragazzo. Non c'è nessun buon ragazzo. Non c'è nessun buon ragazzo. Non c'è nessun buon ragazzo. Eh, non sa lui! E poi è davvero così? Ho avuto solo tanta sfiga e tante situazioni in grado. Cosa? Ah! Ah! Ok. No, Futurama l'ho visto, però non mi ricordo questa cosa, no? Ma te lo sono, non te lo sei mai chiesto perché tornate su queste cose e non tanti essi isolati in una cazzo di foresta. Eh. Tutte le cose che ha raccontato. Eh beh, era solo molto intelligente. Un altro uno di questi cristali. Un altro uno di questi cristali. Un altro uno di questi cristali. Guardate là mentre mi riappurro la luce. Vai! Leosta. È fatto! Che eravamo si stanno accademendo? Perchè? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Loportunaciare il risultato a roccio. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Non fai la funzione. Cosa facciamo? sei proprio forte è sempre stato molto forte quindi per i morti ho sentito che qualcuno chiamano i Hellwalkers ma cosa sono? sono piccoli e liberi che hanno denunciato il loro giudizio e il loro pazienza perché cosa? ha il vostro magico riuscito i morti? potrebbe essere ma questo non è un spazio questa plaga dei morti è solo un symptom di un mondo senza valenza qualcosa che ha meddato con le forze potenti è solo molto forte è solo molto forte è solo molto forte è solo molto forte Grados che non c'era niente qui andiamo ah si questo era impressionante ti sei fatto male? ti sei fatto male? nooo non mi sono fatto male alla schiena tranquillo tra queste porte aspetta quindi i Giants o i Hellwalkers tutte le raci hanno aiutato con la sua costruzione è stato l'ultimo grande atto di cooperazione tra i realmi prima che la pazienza si riuscì per bene stanno del vecchio chissà quanti anni ha Kratos effettivamente la verità la verità non me lo sono mai chiesto quanti anni aveva Kratos anche negli altri giochi ma che essendo un dio sti cazzi però dal bianco della barbetta potrò avere la tua età minchia fatto così tanto in trent'anni il più vengi e la barba bianca comunque ce l'ho da quando ho iniziato ad avere la barba la barba la barba la barba una volta che hai accettato la luce di tutto il tempo infatti la strana della barba con il suo potere non lo ricordate dai ora ce l'ha pure lui parli come non arrivi con noi ho provato ma le misure hanno fatto per mantenermi in Midgard perché? i godi non preoccupano di me molto è questo? è così scuro questo templo ha stato dormito sotto l'acqua per quasi 150 vinture bisogna solo la luce della bifrost per riappare è stato il viaggio tra i regni solo mi approccio mi approccio mi approccio mi approccio mi approccio mi approccio per creare un viaggio tra i regni i regni può capire guardare e trasferire la luce di tutto il tempo metti il bifrost lì dell'acqua Solo una rappresentazione artistica. Non, il Yggdrasil è molto molto più di questo. Il bosco di vita è incontrato al dolore del mondo, proprio come siamo incontrati. Il bosco nourrici i nostri strumenti. Il peggio da loro città, alimenta le nostre valli e i rivoli. Il bosco di esistenza, supporta tutta la creazione di loro. La energia di vita è interroversa nella tapestra della vita. La natura, crescita, morta e ripresa. Ogni strumento trascendendo il tempo, trascendendo la situazione. Tutto viene tornato al dolore. Quindi, è così funziona. Ma credo che stavi cercando una risposta più pratica. Sì. Perché Kratos non mi sembra molto... manco io. Stai cambiando regno. Inoltre, riuscire il ruolo al nostro attuale destino. Ulfheim. Ok. Stai cambiando regno? Sì. Il ruolo si torna il ruolo e il ruolo si alinea con le diverse tueure di realm sul luogo. Sì. Boh, giriamo, lo troveremo prima o poi. E' per questo motivo il ruolo di riuscire a Jotunheim è impossibile. Siamo pronti. Ricordi di prendere la bifrost. Vabbè, ha il senso molto mitologico. Ora il ruolo di riuscire si alinea. E il ruolo di riuscire si alinea. Il ruolo di riuscire si alinea. Bene, adesso ci siamo girati e adesso siamo al Faim. Sì. 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 La torre di Rianheim si è riuscita da tutti i realm, più di 100 vinture, quando i Gianti si è riuscita da Midgard. Onde si è riuscita e come si è riuscita, resta un mistero. Quindi non si può andare là. Almeno non da qui. Ma comunque è l'unico modo di cercare di Side of the Raine. Lo spiegare per questo? F*** di un cazzo, è lineare. Non funziona. Siamo ancora qui. Sfogliami. Il ruolo di R. Il ruolo di R. Il ruolo di R. Questo è stato l'ultimo di usare. Non si è riuscita da quando si è riuscita con la luce di Ralfheim. Quindi siamo riusciti. Al qualcuno di vostra capacità deve avere un piccolo problemi per tornare a Midgard. E potremo fare che il cuore di che il cuore? Con la luce di Ralfheim, sì. Ok. C'è qualcosa, no? Stiamo prima? Ma che Brock, eh. Però ora sì. Non ce l'aveva da fare. Non ce l'aveva da fare. Non ce l'aveva manco sindri prima. Non ce l'aveva di Ralfheim, ragazzi. Ragazzi. Credi che puoi trovare la luce? Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Vedete quella colonna di luce sul lato? L'avevo nel cuore di un templo di Ring. Siamo trovati ciò che abbiamo bisogno. Non. Non, non, non. Non ce l'avevo. Cosa sta succedendo? Per ristare la magia di Vifrost, dovresti andare in la luce. Ma guardatevi molto attraverso. Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Beh l'hanno risucchiata. Non ce l'avevo. Non probabilmente. Come. Sì, è una mitologia, ha un senso e la sua scrittura, mentre qui serve una bella dosi di sospensione che vedete, e comunque continuiamo a non capire il senso del funzionamento, sì, vabbè ma infatti mica l'ho capito, il senso del funzionamento vedete la batteria Non so se deve commentare ancora o posso Ci ha messo mezz'ora per parlare Stai a vicore a c... vabbè è troppo eccitato questo bambino, cioè non si sta fermo un attimo, un po' troppo imperativo Wow, cosa è che? Non è la nostra preoccupazione, figlio Boy Ha fatto da me, ok però L'eterno guerra tra... tra luce continua la stessa luce che ci serve per il bifrost Braifrost Braifrost Braifrost, raff 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 raffrost Braifrost 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 insettoi qua fassiosissimi purtroppo ahi che bello e si riesce da ball o no Per cui ci siamo? Non abbiamo fatto nulla. Più più arriverà. Uggh, dove è questa cosa che non è venuto? Oh, via, via, via! Hai detto qualcosa? Non. Oh, ok. Un'altra cifra! Sì, comunque c'è sta guerra da qua. Tutti morti male. Ehi, c'è Sindri! Una bussola diventa color oro significa che c'è un obiettivo nei paraggi. Ispezione la zona in cerca di indizi. Oh, potrei usare la distraczione. Attenziamento rivietano. Vai, sì. Eh, probabilmente non dovrebbe lasciare il mio abbrotere mettere le mani di nuovo, ma se lo fa, dico di lui di temperare il stile più lungo. L'arpape il bitwork. E per te? Eh, va bene. Penso di l'arco. È utile come... Come supporto. Intanto per le abilità, non tanto per i danni. No, però riesco a fare forza e difesa. Questa è roba che ora non posso comprare perché i soldi li ho appena spesi, però... Mi tolgo almeno le spunte. No, non volevo ripremere. Dovevo uscire. Ne stanno un sacco, li vediamo quando li possiamo spendere. Ok. Qua si aumenta la vitalità, bla bla bla. Forse posso vendere qualcosa? Risorse prima. Non è molto. Ci sta una della guarigione. Pomo dell'ascia. Pomo dell'ascia. Vediamo. Probabilità bassa di attivare un vantaggio che complisce rabbia bonus ogni lancio. Probabilità con il radar che mi ricarica. Precisione. Questo qua, eh? No, questo qua è la ricarica. Ricarica al lancio. Rabbia. Forza aronica. Forza. Barriera prolettiva. Barriera prolettiva. Perciò i nemici. Gli infili danni. Devo aver scaglionato in aria un nemico. Ok. Vabbè. Roba che non mi serve. Per il momento già ci vogliamo i soldi. Ah, più che altro ho abilità che posso sbloccare adesso. Ho preso tipo duemila di esperienza quando sono passati di regno, quindi... E ora ho levelato pure la cosa, quindi... Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare con l'ascia. Ok, questo qua è... Più non... Non... Non vieni su... Non... Più non viene attaccato... Cioè, più non vieni colpito, più fai danni da gelo in più, che è una cosa buona. Questo ci può stare eventualmente. Cioè, cosa facciamo uno? Quando schivi, inclina... Indietro e per il minuto questo è buono da utilizzare. Questo è buono pure. La... Quella dello scatto mi piace. Quello della combo pure è buono. Più che altro questo qua. Cos'è? Dopo un lancio dash... Sì, ok. Ok. Questo è successivo a quest'altro. Mira... Ah! Eh... Ne colpisce tre. Sì. È homing, tipo, ne colpisce tre. Fammi idea, però, per Atreus. Perché magari posso sbloccare di qualcosa che mi vuole essere utile. Ad accaduto a quanti nemici sono vulnerabili o quando Atreus viene attaccato. Atreus strangono un nemico, poi si creano una combo... Se Atreus lancia il nemico... Atreus può sparare una serie di attacchi stordenti con dei miei amici, sono le vicine Hans. Ci sta. Aumenti danni in frizzi delle frecce... E aumenta la velocità di utilizzo dell'artiglio. Allora... Questo può essere utile. Ecco perché... Costa pure poco, questa roba, quindi... La fine è una cosa che fa automaticamente questa cosa. Mento un po' con lui perché è molto utile avere lui... Che fa le cose. Indicatore a punti... Allora... Vediamo un attimo... Si, aspetta un attimo... Devo vedere della roba qua. Si, però aspetta. E' giusto controllare un po' se ci sono delle cose che si possono fare da queste parti. Che la bot... Ok, vabbè. No, sembra di no. Vai, spingilo. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Vabbè? No, sembra di no. Si. Non ti capisco. Non molto. Solo che perché gli elzori stavano sempre lontano contro la luce, hanno continuato l'isolato. Potevo fermarmi e lanciare... No, forse no. Non lo posso fare, forse l'idea fermata da qualche parte prima. Mi ricordavo che potevo tipo fermarmi un attimino, tipo alzarmi e ce le lascio se volevo, però a quanto pare non me lo fa fare. Questo lo devo fare, forse, dalla terraferma. Via. L'oggetto dell'albero è l'oggetto dell'oggetto dell'albero mentre la ricarica in modo permanente. Subito. C'era un porticciolo, sì, c'era un porticciolo davanti, quindi mi sa sì sì. Ah, mi sa che lo fa automaticamente, non è un oggetto da utilizzare. No, di qua no. Oh. Boy, boy. No, di qua. Cinti, non lo senti mai? No, niente. Non senti mai. C'era un po' di qua. C'era scrimi. aspetta fammi tornare un attimo indietro ma posso fare magari a dove siamo surfati o da là sopra non ci arriva dici? cavolo però e se no dove lo faccio scusa perché non mi posso alzare sulla barca non vedo neanche dov'è da qui effettivamente no aspetta sì no perché sicuramente è un oggetto da poter prendere però da qui non vedo neanche c'è un altro porticciolo che non avevo visto tipo qua dici? sì perché devo far finire in acqua quel coso là per poterlo prendere c'era un po' quella radice o qualunque cosa sia e lo faccio cadere solo che non posso fare niente da qui forse mi fa scendere qui dici? boh vediamo ma non mi pare che me c'era no no non lo posso fare ma forse lo posso fare in un secondo momento aspetta no vabbè non posso far sparare avanti lui da qualche parte si può fare semplicemente non so come farlo in questo momento andiamo avanti era un po' intricato questo mondo un po' che ricordo l'ago non ci attaccano quindi evitali a casa potrò darci informazioni lascia perdere non ci attaccano Sì, esatto. Anche perché sono, da quello che abbiamo visto, sono quelli che hanno subito da quei cosi volanti. Sei in guerra. Vai, mi dica. Però c'è un po' un giretto. Vediamo. C'è un po' da esplorare qui. Anche secondariamente, lasci un forgo. Sì, guardiamo. Non ho trovato un po' da bellissima, ma la città fa davvero male. Voi guarda che ci stai con l'occhio. Sì. Ci storie sono per il bambino. Ci dovremmo concentrare. Storie sono per il bambino. Sei pronto! Venti, guarda! Sì! 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 c'è nient'altro qui a parte così odino ma forse questi nient'a aspetta un attimo ok andiamo dai se vi servirà qualcosa questo però non credo che mi pare che funziona automaticamente il fatto la dei cristalli però non funziona elfi ci sono cose che non sono cose non lo piglio chi è? ah avevo sentito un rumore buona sera spazio dell'anno ok boh facciamo di qua oh l'ho bloccato ok guarda guarda ah no devo farlo in sequenza ok 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 non so come sarà l'altra parte nope si devo passare l'altra parte o un altro oh madonna mamma mia così mi ricorrico pure la vita sin dal gennaio di qua comunque non si può no perché dovrei fare dovrei arrivare da lì da un altro punto aspetta no forse ok basta che facessi andiamo quasi ah devo mettere bene in posizione ahhh vediamo qua bello via che mi serve tre potenti attacchi e scagginari nemici li fanno volare ah ma io ce l'ho pure quest'altro manco però questo mi piace ok l1 più devo ricordarmi ste cavolo di combinazioni ok guarda si è ricaricata adesso però adesso ok andiamo di qua ah è bene queste farfalline ah è bene queste farfalline di qua no perché tanto un'altra camera 3d7 tra l'altro già 3d7 ne ho trovate le camere nascoste per il momento non possiamo farci assolutamente niente ok direi che ce ne possiamo andare anzi avevo visto una cosa lì e mi sono diventato di farla ora ci ho rinanzato mi sono accettato sull'attacco speciale mi è passato di mente in quel momento vai ecco vedi adesso se passo con la barca lì dovrei prendere un bottino oro di aeggizu 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 e lascio di dire tutte queste cose da dal kratos che mi ha passate sono tornato di afficchiare ma che falle quanto urla comunque è ancora vivo quello là ok stesso discorso di prima però lo farò da sopra da qua non posso farlo sai che c'è atreus tu potresti passare se volessi farlo non è che ti obbligo però potresti andare all'altra parte non ci volevo andare a solo oh my god semplicemente lo faccio di corsa nooo penso che devo solo correre e basta non trovo non mi sembrava ci fosse niente da surgelare quindi mi sa che devo passare a fare quel comunque inizio a fare un bel danno ok ok fammelo da qui non credo di poter razzare forse prima lo faccio e poi gli sparo l'accia però comunque quindi insomma dovrei farla andare in due punti mi stanno facendo andare qua dietro prima forse c'è una cosa da far prima qua dietro ok quali sono quelli corretti? scopro a caso? questo era corretto allora uno è questo questo è corretto pure? sì allora uno è questo uno è quello e l'altro è ok ok iniziamo le prossime mele per la vita che decisamente mi serve sta roba ok c'era solo questo e qua mi sa di sì allora questa cosa sono sicuramente capace di farla ah ma c'era un'altra cosa qui ma ancora l'avevo vista questo che fa? ah beh se potete tornare indietro allora bisogna farà bisogna farlo velocemente in conseguenza non lo fare e l'ho fatto oh madonna bellissimo non ero sicuro fossero nevici però ho provato orca troia no non lo faccio non lo faccio non li affronto adesso sono sono troppo forti per me adesso non se ne parla fammi però vedere se c'era qualcosa da prendere dall'altro lato poi ci tornevo quando sono più forte adesso però finché siamo anormali magari ma ma difficile no non a 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 forse quello non so vediamo ma non credo no no a a a a a a a a non credo di posso fare la cosa amici no non saprei come farlo cioè potrei al massimo questi due ma neanche no no non credo di poterlo fare bello mio mi sa che è una cosa che possiamo fare successivamente forse probabilmente riguardante la parte qua sopra che non ci arrivo che sono una cazzo faccio ok andiamocene lì non possiamo farlo adesso quindi lo evitiamo quello avevo visto quello che potremmo vedere qua dai quindi Sindri che che sgommale ha fatto bec 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 che avviene che son aiuto Oh, sto amassando. Sì Mazzarola, stavo morendo malissimo Ok C'è di qua? Sì Se ci fosse l'ascensore Sì Ci arriviamo da un bel E qua? No No, quanto pare no Aspetta C'è roba da fare qua Ok, quindi questo ha fatto qualcosa Penso Oh my god Oh my god Ma sono messi cazzo alla vista Eh la so che non bilonghiamo qui In teoria stiamo interferendo Comunque stiamo rompendo i coglioni Questo sembra come un ruolo, non fa senso Vieni, torniamo al sandbowl Andiamo Padre, conoscivi qualcuno altrimenti che ho sentito voci? I knew desperate men at sea Who, when our supplies ran dry Would quench their thirst by drinking seawater They swore the sirens Evil creatures singing to them from nearby islands Were in fact their wives and daughters calling them home They endangered the crew Steering us toward the reefs Um, how did you fix them? We threw them overboard Oh Eh, comunque è stata una soluzione molto veloce Ti la buttavo giù Dalla lava Vai vai What does it ask? Without me or within me, death is sure Yet within you, I am life most pure Yep, it's water, all right It was the voices again But different voices Less angry They were asking for help We are here for the light I do not care who they are nor what they want You never care about anything You have something to say No E che non puoi capire E lui non gli ha detto ovviamente niente What's happening? What the hell? Look at the way down 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 Father? The voices I heard It was hard to make out But way in the back I'm pretty sure I heard Mother That is not possible I know what I heard Atreus Atreus Enough Who they want What the hell is different? Look at those horns Behind me boy That can't be good That can't be good Lasera That can't be good Blood I'm atreus Help us I'm atreus Why would the andreus Sembrano a ste... Eh, un pochettino sembrano dall'aspetto. Non ho quel tipo di aspetto da Europa Centrale. D'Europa, sì, vabbè. America Centrale. Classico, ovviamente. Quindi mai a ste... queste cose così. Quanto è che qua non posso, quindi? Come se fossero dei carcerati adesso. Sì, ma tanto di qua non posso. Anzi, no, aspetta, forse posso. Aspetta, aspetta. Andiamo? No, dai! Devo capire bene l'angolazione, eh. Dove ficcarcelo. Anzi, no, aspetta. Perché dove ficcarcelo... Dove far arrivare... Il ritorno. Andiamo? La stascia è davvero figa. Ah, ma che mi piace davvero un sacco. Un attacco... Fendente... Che scaglia... Una piccola onda d'urto verticale... Comprie danni dal gelo. Vediamo che fa. Bella. Questa è la fine del ghiaccio. Dove dire che proprio mi piace di più questo qua, a dire la verità, eh. È un attacco ranged, niente male. Ti hai premuto reggio per caricare fino a tre ondata. Ah, posso fare pure fino a tre ondata. Devo provarlo. Vediamo. Sì, vabbè. L'ho caricato male, ma ok. Va, è figa, è figa. Mi piace. C'è un bel po' di customizzazione. Questa è rotta, però. Ma è come si è la mente del bambino, eh. Pardon se esploravo. È ranged, ma non fino... Non così tanto, ecco. Fino a un certo punto è ranged. Here, take this! No! 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 Oh, è cavuto giù. Oddio, ho un ricordo di questa cosa qua. Ci avevo messo un sacco per farla, verrà. Questa cassa qua. Atreus! Fammi fare body blocking. E' la seconda, se non sbaglio, dei livelli di questa cosa. Esatto, tipo una lì. Ops. Ok. Triggy. Very tricky. Sì, vabbè. Magari... Abbassare un po' di più così vuoi il tempo di lanciarlo. No, se lo abbassare troppo, però non funziona. Credo che quella lì di lì di uscire al tempo? Siamo trovati. Forse... Forse le posso tirare un pugno? Forse basta un pugno. O forse semplicemente posso arrivare... Ci arriva da qua? Ok, no, ci arriva da qua. Mi stavo scelbellando troppo per niente. Però probabilmente... C'è altro qua che devo controllare. Un altro è qui, effettivamente, però... Come ti posso tirare un pugno io e basta? Ok, perfetto. Però manca l'ultimo. No, bastava questo... Allora, bisogna trovare l'altro adesso. Ah, è qua dietro l'altro. Ma... Come lo piglio? Da qui non lo piglio. A meno che... No, però non penso. Capisco pensare outside the box, però. No. Dovevo pensare outside the box. Ha fatto una laggatona, la live. Vi ha laggato? Che palle. Spero che... Ci siano proprio i... Vecchi problemi di team... E Twitch assieme. Buono. Ok. Che palle. Non c'era manco bisogno di fare il trucchetto che ho fatto, però ha funzionato lo stesso che il trucchetto. Manco buffering. Favorisci il posore runico? No. Perchè te, è utile, eh. Aumento il danno tipo dal genere, cosa del genere, però. Ho le abilità. Però ecco. Preferisco puntare a normale difesa e forza. Al massimo vita. Ok. Ok C'è una cassa E' una cassa quella Cavolo, è una cassa quella Brutta storia Ah ok, posso bloccarlo Ok Riduce al 12% tutti i danni inferti Degli elfi scuri Si accomuna fino al 33% Eh, cazzo In sta fase Sarebbe utile Precisamente Questo che aveva? Che gli avevo messo in questo? Questo era l'unico difesa Questo gli avevo messo Era un incantissimo Che aumenta forza l'unico Ok L'altro invece Questo qua scarsino Che era Due difesa solamente Era per il suo po' questo Onestamente Siccome sovi qui Vale la pena sfruttarlo Tipo Si Si Paggia oddio ma io mi furio don't touch my boy mi è volato lo stesso my boy guarda come non si scarica la furia proprio incazzatissimo non si scarica la furia se si contro lui si prosegue allora il tutorial quindi ok qui invece è talmente incazzato che il mio boy non me l'ho toccato il mio boy non me l'ho toccato guarda come quando il mio boy questo è un tutorial no fico contro lo straniero era abbastanza tutorial era la prima volta che succedeva non toccate il mio boy sennò ho la furia infinita anzi no, toccatelo così ce l'ho infinita così non voglio mai questo attacco range comunque non è così tanto utile non è molto forse è molto più ranged sì ma non lo è mi sa che lo cambio mi sa che lo cambio perché non mi piace molto ah sì era per storia però all'inizio proprio ti mostro per la prima volta come fa la furia vabbè come negli altri vecchi capito lì rapida scarica e fermare i nemici questo mi piace era questo che volevo cambiare penso che gli rimetterò qual era questo qua? questo mi piaceva però mi piaceva era buono pure questo qua no forse è più buono questo qua perché non me lo fa fare comunque perché sono bloccato aspettiamo che si ricarica no forse è più buono è più buono che la furia non funziona non funziona era questo? sì mi piaceva mi piaceva quello la prima che fa tre colpi però questo qua si è congelato ad area infine non posso andare a nessuna parte molto rassicurante è più buono No, 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 no. Yeah, old boy. Pazzarola, non sto capendo niente. Ma lo so che sono hurt. Pazzarola, non sto capendo. Pazzarola, non riesco mai a podiare. Pazzarola, non riesco mai a podiare. Pazzarola, non riesco mai a podiare. Ho questo aspetto comunque che si riguardi... Che purtroppo riguardi... I problemi con team che sto avendo. Uh, l'ho boccato, bene. Cioè, non sto avendo io pro... Oh mio Dio! Oddio, giusto. Adesso c'è sta cosa. E la madonna. Qua vicino per curarmi è stato peggio. Sì, sto... Sto specie di... Golem... Di costrutto... C'ha... Devi colpire il pet. Sto a me non le rabbia tutto il resto. Ok, gestiamola meglio. Esatto. Ok, mi è morto male. Madonna che è rotto in culo questo foglio... Padonsaco, è giusto... Ci sono. Fai! Sì! Sì! Quanto vuoi essere? Come hai? Come hai? Hai? Non ci hai? Poi usare l'altro! Poi usare l'altro! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si comunque fa cadere i pezzi sto coso, l'ho notato adesso, me ne ho dimenticato che poteva cadere i pezzi. E io posso utilizzare contro i tuoi. E che cazzo, madonna. Basta, è rotto. Vai fare più danno così. A posto. Madonna santa. Cattiveria. Ah, si accumula, quindi potrei ancora mettermelo addosso. Potrebbe starci, di verità, eh. Almeno per ora. Togliermi questo qua, che comunque è buono, per carità. Aumento giusto la forza e il runico di tre. E quindi volendo potrei... Aumento pure un po' che tiro una vitalità e... No, ci sta. Ci sta. Infanto è buono per questa zona. Assortiamolo. Moro il 24% di resistenza ai danni. Un veloce attacco rotante in misca che respingono i nemici e infliggono i danni ingenti. Vediamo. Oh. Ah. La ricarica è più alta, però. Mi piace. Pff. Mi piace. a presto, vieni! 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 Vi ha fatto il primo bridge! Deve trovare un modo in. Che è il giusto? Che è il giusto? Aspetta, ha sbloccato anche l'altra parte, però. Qualcosa a quest'altra parte? Sto per sì così, infatti, c'è qualcosa. Perfetto. Venghi, venghi, signorino! Ehi, Davide, buonasera. Ah, vabbè. Salutare di indietro, praticamente. Giornata pesante? Lo studio? No, non commentano, però sono tipo dei... Dei, come si chiamano? Dei prigionieri, però non commentano, no. Non posso neanche capire le celle. Ah, lezioni. Che lezioni hai fatto? Che ho studiato oggi? Ok. 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 Sì, c'è una della cassa, ma non le posso aprire a questo momento, quindi una cosa per dopo, mi sa. Praticamente tutti i corsi che sto secondando davano una lezione. Non c'è una cassa. Ma? Abbiamo un problema. Sai dire che abbiamo un problema se non si apre? Cazzo, tutti i corsi oggi, madonna. Sicuramente è fatta la cassa. Quando hai finito di uscire dall'Uni? Non ho capito. Non ho capito. Non ho capito di uscire dall'Uni? Allora. Allora. Ci troviamo un'altra via in. Cerchiamo un'altra via dentro. Il Dwarf ancora. Sindri? Bene, allora vado all'altra parte. Che avevo visto la cosa qua. Più di queste belline. Un nord nello stesso, dovrebbe essere nello. Alla 19 sei uscito, madonna sapta, è tremendo così. Eh, cazzo, ci credo. È tremendo così però, eh. Ho troppo esagerato che... Che avessero tutti lezioni oggi. Ok. Uno. Mi metto in posizione così posso lanciare subito quest'altro. No, cazzo. No, cazzo. Bello. È domani pure, eh. Oh, aumentiamo la barra. Della rabbia. Bella. È giovedì, eh. Lunì, fino a che... Cioè, che giorni fai? Fino a venerdì? Domani sono un'ora e mezza. Ah, no, concentrano tutto oggi. Ci staggianto mani rocizia niente, madonna. No, male, gac. Hey, Sindri, troviamo qualcosa di interessante. Oh, davvero? Mi piace qualcosa di interessante. Wow! Allora, prima di tutto c'erano delle abilità, probabilmente ho abbastanza esperienza per sboccare altre cose utili. Questa è per tenere premuto. Ci sta. Questo pure mi piace. No, infatti, non lo è. Non so come fanno gli orari, ma ci sono molti corsi, ma in molte volte con molte persone le aule sono limitate. Eh, sì, però, cavolo, riunire tutti i corsi oggi, cioè, capisci pure che per uno studente è troppo. No. No. E' vero! E se si riusciranno dentro te, ti rendono sicko. Ma la ditta mi ha detto che c'è un uomo, l'oca, che è un deterrento naturale, che stoppa le bambini di spiegare. Quindi ora, faccio tutte le mie mani d'oca. Vedi? Io penso di queste cose. Ok, torniamo a lavoro. Detto da un maniaco della polizia ormai. Da quando ho scoperto che ci sono i microbi. Ma a quanto pare è il meglio che sono riuscito a fare. Minchia! Fai passare tutta la giornata con la lezione, è il meglio. Ammazza. Ah, arriva a fare Brock. Abbiamo tutte e due ormai. Oh, i miei propri bambini. Oh, no, i bambini. Dice che è l'unica forma in cui può sentire quello che vuole essere. Tocca il raro e cambia la tua pelle. Questo significa sempre. Non potrei farlo a lui, però. Svegli come si può essere sensitivo. Credo che questo fa sensibilità. Sindri, perché non ti facciate solo con il tuo brato? Me? Mi racconti con lui? Perché è un'obstinante pighead, incapace di cambiare. Perché gli dice le cose più terribili sui mie. Perché gli è insicure sui miei, che, mi racconti, è subparato. Perché gli ha scoperto me per... per le cose che non sono la mia scuola. Eh? Per cosa? Voi perdone me, por favor. Ho bisogno di colpire me. Cosa parla a te? Non vale la pena, però onestamente. Forse non vale la pena. Però non spendo neanche molto, quindi... Ah, secondo me ci sta. Questo qua era l'unico? Cosa parla forse è difesa? No, facciamo questo. Con la pena vale, sai. Sì, ma i soldi ce li ho. Mi mancano... La questione che mi manca sono tipo il cuore dell'antico. Me ne mancano due, che immagino che siano uccidere altri antichi, appunto altri golem. Qui invece mi serve detrito di antico. Sono sempre antichi. Detrito di antico, quindi insomma. Devo farm amiglie antiche, praticamente. Quindi, per il momento, per questo non possiamo potenziarlo. L'artiglio non lo posso potenziare. Che carica più in fretta le frecce, ecco. Questo è buono. Lo sta tanto, però è buona. Fa comodo poter... Proprio impiato di spammare di più le frecce. Per un secondo. Ma non ho equipaggiato dei bracciali? O sono solo quelli che fosse potenziare questi? Ora, c'è qualcosa di più a te che ti racconta. Aspetta un attimo. Ah, non li poterò più potenziare. Però questo posso metterci qualcosa adesso. Può essere a forza, ok. Mettiamoci... Ok, quello che avevo tolto. Sto. Per questo che riguarda Treus, però, posso potenziarla? No, perché mi sono bruciato tutti i soldi. Vabbè, prossima volta. Leggi un po' qua, Boy. Odin l'ho ucciso per un libro. Qua mi unisce le cose. Ok, Boy. Mi sono potenziato un pochino. Let's go. Andiamo un altro poco avanti. Poi tra un po' con stacco, però per ora andiamo avanti. Siamo inizia. Conna tua! Certo. Eh, ovviamente. Enemies ahead! Certo. Certo. No Oh Yeah Dai Usiamo sta pure Dai Alti mega freeze Davide hai visto freeze pure tu? Non lo so Sta cosa dei freeze è stranissima Penso che siano proprio dei problemi Legati a team Col twitch Ma quanto durano? Sempre un secondo? Che palle Cioè Non ho lasciato e riesco a leggerla stasera Anche se All'inizio stavo un po' sfatulizzando Sempre uno o due secondi Un pochino sì Eh pure te allora Merda Esatto Troppo frame Aspetta potrebbe essere No il bitrate sembra corretto Non lo so Non lo so Non lo so davvero Ho deciso che deve avere problemi twitch con team ogni tanto No 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 Sono su playstation A parte che a pescivere non credo che avrei problemi Non lo so Non lo so Non lo so Oh madonna Sì ma ho pensato io Davide magari poteva essere il mio come si chiama la capture card ma non è perché io sto giocando esattamente quello che voi vedete tramite la capture card quindi vedrei se ci fossero freeze Quindi è qualcosa di dovuto alla live stessa ma penso che sia dovuto ripeto a team che magari sta un po' spancurizzando con twitch Un po' come ieri sera solo che ieri sera non c'era un problema della live ma era il problema della chat regata per alcuni solamente No vabbè quello per la questione della live però ripeto nel senso non è la capture card il problema intendo dire che appunto non è la capture card il problema Ho fatto una cosa grave ho reinstallato Genshin Impact mi dispiace cosa ti ha portato a fare questa scelta drastica Ci ho giocato un pochino 2020 quando è uscito Ho tutte cose che si è installato Ho tutte cose che si è installato Non so che cosa bloccava ma bloccava qualcosa È molto gradevole praticamente Sì sì perché è ta Io non ci ho mai giocato Cioè ho giocato un'oretta Per provarlo su pc Però Togliono accanto delle finali Noi ci ho giocato un'oretta e poi mi sono detto Forse è meglio che lo disinstallo perché sennò mi ci drogo Quindi ho preferito evitare Per quello che mi faceva incansare non c'era niente Un evento ti dà male appena una pescata e esce un evento ogni due mesi Minchia è così tier che ho gioco Come free to play Si perché non sono tutti sciopponi Stanno ammazzando Stanno ammazzando altro che That was his choice We make ours Non voglio farmare max alle stats Giusto andare a cazzeggiare Vabbè se non ti interessa niente Devi fare cose mezze matte per avere la gene del pescare Io fa lite due volte 50-50 dei roll Allora vaffanculo Magari ha roll pure bassi Tipo Ottieni un 5 stelle al 0,1% Non lo so come funziona però Immagino sia una roba del genere Non lo so come funziona Non lo so come funziona No lo so come funziona Non lo so come funziona fasting Non lo so come funziona Flora Terminere Support Continuando Gono Si Il 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 Si N un secondo che c'era una cosa che volevo utilizzare ma non mi ricordo come cazzo utilizzavo l'armatura era? era l'armatura ah no no che era la cosa ma non mi pare sono necessari per andare avanti vabbè sì più che altro perché a meno che il gioco non sia bilanciato col culo immagino che essendo un action magari è fattibile un po' con anche con i personaggi free spero cioè almeno l'idea che mi ero fatta era che era un action mi sto shottando con un po' io no vabbè non è un gioco oddio non lo so se è un gioco compreso non è il pvp vero? che bella Ember è gratis però è bella il design mi piaceva molto no vabbè non è vero no vabbè non è vero no vabbè non è vero di cazzo di esplosioni di merda cosa ho caduto di male scusa ah no vabbè non parlavo del doppiaggio della personalità mi piaceva l'aspetto tutto qui tanto a guardarla manco mai l'ho sboccato sì è terribile ah no no di figlio l'altra cosa per appiccicare incendi allora ripeto l'ho giocato giusto un'oretta giusto col pg iniziale giusto per vedere com'era ma me ne sono voluto tenere lontano da Genshin Impact mi ispirava eh ma proprio perché mi ispirava mi conosco bene oh my god non so dove riprendere avevo solo fatto un po' di storia mi sa che vado avanti con la quest principale beh se no ricomincio tanto se no non avrei fatto molto c'è Grazie a tutti Grazie a tutti C'è un giochino mobile che mi sta ispirando ma non ci voglio comunque passare il tempo ma è praticamente una specie di Ark Knights Sempre con quasi solo donnine però in 3D e mi ispira di più il design E' in 3D, è carino La storia sembra figa però insomma Non mi ci voglio neanche passare troppo tempo Ci gioca ogni tanto così No Nicky era quello là Madonna Nicky Madonna Nicky No no si chiama mi sembra Path to nowhere Path to nowhere No è un No è come T-Bark Knights proprio quel gameplay Tipo Come si chiama Tower defense Nicky era Tipo un tower defense Si Path to nowhere il gioco dico io Carino Quello che dici tu è Nicky qualcosa Si l'ho visto Madonna è tremendo Che ci sono le tipe che sparano e ci hanno scoperto C'è una che è tipo tutta vibra Imbalazzante Ark Knights l'avevo giocato un pochettino Questo qua lo sto provando così Antoperla non ci voglio passare tempo Però mi ispirava la storia Sembra Sembra carina No a Snap non ci gioco A Snap ci ho giocato un pochino per una settimana L'unica cosa che gioco di free to play è Master 2 l'ogni tanto Davvero Snap l'ho droppato Perché no 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 Nel momento riprovo i giochi mobile Ma Da un po' mi rompo le palle Allora dal logo ho visto che praticamente avevo fatto i tre atti del pro Strico Non No 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 Grazie a tutti Non riesci a trovare un gioco bello mobile? Dipende da cosa cerchi Che cosa vorresti giocare? Qualcosa che ogni tanto così puoi prendere? Che il tipo di gameplay? La maggior parte dei free to play sono tutti i gacha ormai Un gioco mobile che ti piaccia Ok Eh, però che cosa vorresti? Magari di quelli là di Genshinipa Puoi provare... Come che si chiamava? Quell'altro? Quello che hanno fatto prima, non mi ricordo il nome Ma diventa una super ripetitiva Io volevo qualcosa di RPG a turni Ma almeno si trova in un altro giochi vecchi Di RPG a turni sempre... Ma aspetta, ma free to play Onkai, grazie Onkai Ma sempre free to play O anche a pagamento Perché a pagamento magari qualche roba interessante Alla prova Che ci sono Ormai Atreus, assassino incredibile e impressionante. Anche a pagamento? Mamma mia, come sei cattivo! Scusa, a sto punto emula qualcosa dolce volare e gioca di quella roba, qualche roba emulata. Ci stava quella specie di salts, like, su mobile. Non mi ricordo il nome, ormai non mi ricordo il nome. Ormai è riuscito anche su Steam, alla fine. Sì, onestamente... A sto punto emula qualcosa. Qualche titolo PS1, qualche titolo PSP. Ci può stare qualche titolo PSP considerando che era una console portatile e quindi c'erano giochi fatti anche positamente con in mente la portatile. Ci potrebbe stare. Fai una fante di Tactics, eh! Fai una fante di Tactics, ad esempio. C'è la versione migliore su mobile. Fai una fante di Tactics, mi pare The War of the Lion. Tactics Hog, minchia, Tactics Hog, ti farà bestemmiare. Fai una fante di Tactics, mi pare di fare. Reportissimo. Ya non un ordine. As behave, lo抵endiamo and proteggo a sei. Sì, signor! Un consigli di Flex. Un taglio! Un taglio! Un taglio! allora quanti cazzo sono non 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 Scusate il tempo tra le vostre volle. Ci sono molti targetti, non dovremo perdere. Il narrow path nega i superiori numeri. Scusate di concentrazione. sì sì sono tanti ma i gol mi ha lisciotto sì sì fatta apposta se erano forti erano pure cazzi sì hai safe state con le motore sp esattamente ma c'è stato tantissimo ma anche con le motore da risse puoi trovare anche qualche RPG per NES che ne vale la pena insomma di opzioni ne hai tantissime con l'azione GPR G.B.R. Si è buono Stai qui. Stai qui. Stai qui. Utilisci solo come un risultato. Tu mi dimenticare un sacco. Mi dimenticare un sacco. Non è un sacco. Non si parla. Non si parla, non si parla. Non si parla. Non si parla. Ahhhh! Ahhhh! Cosa è questo? Faye? Tu devi tornare. Tu mi lasciati solo. Atreus? Con lui. Il è sempre andato. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vuole. Non lo conosco e non lo conosco. Non sembra che vuole. Sono forte. Sono smart. Non è quello che pensi che io sono. Lo conosco meglio. Non mi insegna. Devia essere lui. Mi senti? Lui, non te. Doveva morire lui, non te. Mmm. Questo figliolo un pochino ingrato. Eh, lo so. Lo so che mi piace. E l'ho amato. Vorrei che sia meglio. E' lo so che può essere. Se non mi permette. Se lo so, non mi permette. E se lo so, non mi stesso. E se non mi fa, Voltare. Sto quindi sei che sia un'alto. ...è un'altra parte. I presenti. Vaffa culo Pensa Pensa Massacrato tutti No, you've been gone a long, long time I didn't know what to do You left me here again Why don't you care That's impossible We should go before they come back I hope you got what you needed Yes Sai, quando il ragazzino si incazza, cioè Non scherza mica We're trapped, and the witch's bowstring is useless Grazie a tutti.